Disco di Newton, colori differenti ma messi in rotazione formano il bianco. Perché cosa sono i colori? I colori sono la componente della luce. Il Museo Michelangelo è un museo scientifico, tecnologico, con una piccola sezione di petrografia e mineralogia all'interno di un'istituzione scolastica, cioè l'Istituto Tecnico Statale Buonanotti di Casetta. Nasce nel 1963, ha ereditato collizioni scientifiche, storiche, risalenti alla metà dell'Ottocento ed è aperto alla modernità perché dal 2012 gestisce il planetario di Caserta con l'Istituto Comprensivo Mabiteri e l'Istituto Comprensivo Ruggero Terzo Circolo di Caserta. Il Museo Michelangelo ha come cuore dell'esposizione gli strumenti della sezione di topografia. Sono strumenti pregevoli perché realizzati da costruttori molto importanti per la storia della topografia napoletana, uno per tutti, spano, italiana, l'officina carrilea e la salmo irali e internazionale. Abbiamo anche alcuni strumenti che sono di fabbricazione tedesca e svizzera. E sono strumenti che non si costruiscono più, strumenti dei quali si è persa la memoria del luso e le cui ditte costruttrici o i costruttori non esistono più. Per esempio, il Teodolite di Sparma, l'oggetto principale della collezione, racconta una storia simpaticissima. È stato pagato mille lire dell'epoca, 1868, e Sparma non lo consegnava perché l'avevano pagato in anticipo. E dopo che i carabinieri andarono nel suo laboratorio a Napoli a prelevarlo, finalmente lo strumento partì per Caserta. Di questo strumento abbiamo ricostruito la storia, ritrovando i documenti di archivio, nell'archivio di stato di Caserta. Alla originaria sezione di topografia si sono aggiunte nel corso degli anni altre sezioni. La sezione di mineralogia, grazie alla donazione del cavalier Francesco Paolo Desiderio. La sezione di storia del disegno, grazie a modelli ricostruiti dagli studenti del Buonarroti, studiando i trattati del 400, del 500 e del 600, come si faceva misura all'epoca e con quali strumenti e con quale tecniche. La sezione di scienze pure, chimica, fisica, scienze naturali. La sezione di storia del disegno, in cui si ripercorre la storia della tecnica del disegno e si ricostruisce come era fatto uno studio di un ingegnere, di un architetto, di un geometra negli anni Sessanta, con i pezzi, gli oggetti di arredo e gli strumenti originali. Ultima sezione inaugurata nel 2013, la sezione di storia della tecnologia. Abbiamo i primi computer da schevania prodotti al mondo, il famosissimo Olivetti Programma 101 e i primi portatili, insomma un pezzo di storia della tecnologia, audio, video, registrazione, calcolo, scrittura da ufficio, in una scuola desertana. E allora la sfida del Museo Michelangelo è quella di raccontare questi oggetti attraverso le parole, il cuore e le gambe degli studenti dell'Istituto Tecnico Bonarroti, che sono gli educatori del Museo. La didattica, il racconto del Museo Michelangelo è stato sempre affidato ed è affidato agli studenti, perché la comunicazione tra pari è più efficace. Anzi, negli ultimi tre anni gli esperti educatori, gli studenti più anziani, hanno addirittura formato le nuove leve, chi si candidava a svolgere il servizio educativo al Museo Michelangelo. La visita al Museo è sempre accompagnata, per chi lo vuole ovviamente, ed è sempre interattiva, in ogni sezione ci sono almeno tre, quattro strumenti, apparati, oggetti da manipolare, da toccare e da far funzionare per capire cosa si faceva con quegli strumenti, come lo si faceva all'epoca. Il Planetario è un'altra piccola eccellenza tecnico-scientifica della città di Caserta, perché è uno dei pochi planetari interamente digitali in Italia ed è un planetario nel quale si sviluppa una didattica specifica dell'astronomia e della storia della scienza, sviluppando prodotti educativi originali che puntano ad appassionare, incuriosire, accattivare l'attenzione dello spettatore. Essere immediatamente catapultati molto lontani da qui. Dove? Beh, all'interno di quella che una volta era la cupola di un osservatorio astronomico, il luogo dal quale con i potenti telescopi gli scienziati studiavano il cielo. È un planetario interamente digitale che sviluppa programmi, lezioni, spettacoli, come li chiamiamo, interamente originali. Nell'offerta formativa ci sono circa 20 spettacoli adeguati ad ogni fascia di età, dalla scuola dell'infanzia al pubblico generalista, al pubblico del territorio. E con tutti gli oggetti della nostra galassia, stelle, pianeti, satelliti, asteroidi, comete, polveri, gas, contiamo un'enorme rivoluzione rispetto al centro. Implieghiamo qualcosa come 220 milioni di anni per fare un giro. Praticamente l'ultima volta che siamo passati nella regione dell'universo che stiamo attraversando oggi sulla Terra, 220 milioni di anni fa, c'erano i dinosauri, dove domattina il sole sorgerà alle 6.00 e anticipo anche lo spettacolo suggestivo con l'aulora dell'alba. E sempre con i nostri potentissimi calcolatori, ecco il tramonto del sole domani alle 20.32. Grazie.